Mi sento quasi un inviato di guerra, scherzo. Sono un consigliere comunale di Taranto che raccoglie le segnalazioni dei cittadini e cerca di dare risposte, di affrontarle. Mi trovo al quartiere Tamburi, in via Grazia De Ledda. Vedete alle mie spalle questa immensa struttura abbandonata, ex INAIL, che da decenni giace in questo stato comatoso, pietoso, sta letteralmente crollando a pezzi. Vedete, è stata fatta una cinta muraria per metterla in sicurezza, delle retine verdi per contenere la caduta di pietre, calcinacci, strutture murarie in generale. Eppure il sindaco Melucci, il sindaco di Taranto, si sciacquava e si sciacqua la bocca con l'espressione riqualificazione del quartiere Tamburi. Questo era uno dei punti del suo programma elettorale, di quello che aveva fatto, fatto cento, una delle cento cose fatte, la riqualificazione del quartiere Tamburi. Falsità, chiacchiere, bugie, menzogne. E vi sto facendo vedere punto per punto nel quartiere Tamburi quanto menzognere erano e sono le dichiarazioni di Melucci. al di là di qualche episodico taglio di nastro, di qualche episodica inaugurazione. È ovvio che la struttura non è del Comune, il Comune non è che la può fare a proprie spese, però un Comune cosa fa? Un ente civico cosa fa? Un sindaco capace cosa fa? Si rivolge all'ente e gli tira le orecchie, dice amico cosa dobbiamo fare delle due luna. O questa viene completamente abbattuta e quindi qui possiamo creare nuove realtà, nuove costruzioni, ma anche, meglio ancora, un parco pubblico attrezzato, dei giardinetti, tutto quello che volete voi, un nuovo palazzo e quindi la si abbatte. Oppure l'ente si carica la croce e la ristruttura, la riqualifica. È difficile da farsi, ma comunque l'ente comune richiama all'ordine gli altri enti, le altre realtà che insistono sul proprio territorio. Quest'area insiste nel territorio comunale e nessuno può permettersi di deturpare ulteriormente questa zona. Cioè non è possibile, non è possibile, guardate, ma veramente questo quartiere Tamburi deve diventare un quartiere dormitorio, un ghetto. È possibile che dobbiamo piegare la testa dinanzi agli enti, come anche le ditte che fanno i lavori, che fanno i cazzi propri, scusatemi l'espressione, a casa nostra, sul nostro territorio. E allora Melucci, e allora Mattia Giorno, svegliatevi, interfacciatevi con l'Inail e richiamate l'Inail al proprio dovere. Non è possibile, non è possibile avere questo monumento, questo scempio, uno scempio all'Inavia, al non far nulla, al subire passivamente. Ecco, questo è un monumento al fallimento non solo di questa amministrazione, ma anche delle altre precedenti amministrazioni comunali che si sono succedute e che hanno sempre piegato la testa. I Tamburi meritano altro. I Tamburi non meritano questo scenario postbellico.